Siamo della RAI. Peggio per voi. Grazie. Tur marchigiano del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani in vista dell'Election Day di domenica 26 maggio, dove oltre alle amministrative è in ballo il rinnovo del Parlamento europeo. I leader di partito stanno viaggiando nei loro incontri nazionali, quindi su un doppio binario, come è avvenuto prima per Salvini e Di Maio, anche per Tajani di Forza Italia. La sua visita ha il dublice scopo di lanciare le candidature locali per il centrodestra, ma anche per sponsorizzare i candidati all'Europarlamento con argomentazioni di respiro internazionale su economia, sviluppo, immigrazione ed Europa. Nella giornata di ieri, verso le 16.30, il presidente in carica ha fatto tappa a Pesaro, dove ha fatto visita ad un'azienda logale, la Gambini Meccanica, in via dei Cacciatori, specializzata nella produzione di organi di trasmissione meccanica ad alta precisione che trovano applicazione in molteplici settori industriali. Poi ha fatto tappa nella sede di Asso Industria, in centro, per incontrare poi la stampa, assieme al candidato sindaco Nicola Baiocchi e all'Europarlamento Costanza Rozzi. Il governo giallo-verde è un governo che non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, litigano in cerca di consensi, in realtà li perdono, l'Italia ha bisogno di una robusta azione per rilanciare l'economia, per questo bisogna cambiare, mandare a casa questo governo, votare per forza Italia significa dare il cartellino rosso alla maggioranza giallo-verde e creare una maggioranza di centro-destra. Dove c'è la sinistra abbiamo cominciato in molte regioni a dare lo sfratto a questi governi, gli italiani vogliono un governo di centro-destra e lo vogliono anche i marchigiani. Tagliani avrebbe dovuto fare tappa anche a Fano, dove i forzisti lo attendevano assieme alla candidata Lucia Tarsi e dove avrebbe dovuto tenere un incontro pubblico proprio sul tema comunità europea come opportunità di crescita, toccando temi come i fondi, i finanziamenti e la difesa del Made in Italy, ma sopraggiunti impegni non hanno reso possibile la sua visita nella città della fortuna. Oggi, invece, seguendo il filo logico del suo tour, ha visitato aziende leader nel campo delle tecnologie applicate come il gruppo Filippetti S.P.A. a Falconara Marittima e nel distretto produttivo di Monte Granaro.